Il gruppo prima di tutto. Al Catania le tre vittorie di fila hanno rigenerato in parte la classifica ma soprattutto il morale del gruppo. Per questa ragione il centravanti Emanuele Calaiò, 17 reti in stagione, giocatore simbolo dentro e fuori dal campo, partirà con la squadra per Latina, anche se sa benissimo che non giocherà. D'accordo con il tecnico Dario Marcolin, eviterà una possibile ricaduta, ha avuto un problema al polpaccio e sarà così pronto per venerdì sera 24 aprile, quando al Massimino alle ore 19 sarà di scena la Ternana. Calaiò si aggregherà alla comitiva rosso-azzurra per stare con i compagni, per cementare quello spirito di gruppo in una partita che potrebbe regalare un finale di stagione a sorpresa. Andrà dunque in panchina l'arciere, seguirà i compagni con grande slancio, li inciterà, si sbraccerà. E' stato infatti lui a chiedere alla società di poter partecipare alla trasferta. Un segnale significativo per tutto il gruppo. Dopo la rifinitura di oggi dunque Marcolin non ha più dubbi. Schema 4-3-2-1, il celeberrimo albero di Natale con Gilles fra i pali, difesa con Del Prete a destra e Mazzotta a sinistra con Schiavi e Ceccarelli centrali. A centrocampo Rinaudo dialogherà con il rientrante Coppola e con Schaudone. Rosina e Castro galleggeranno fra centrocampo e attacco con Ricchi Maniero punta centrale. Marcolin potrà contare anche su una panchina affollata e finalmente di qualità, vista la disponibilità di Martigno che non gioca dal 28 febbraio scorso, oltre che di Terracciano, Belmonte, Scalante, Auger e Rossetti. In casa latina, squalificati Crimi e Figliomeni, Iuliano confermerà il 4-3-3 con un tridente formato da Bidaoui, Soue e Jadì. Scuola Udinese, quest'ultimo, fischio di inizio domani alle ore 15, arbitrerà Nasca di Bari. Si prevede una discreta presenza di tifosi rosso-azzurri sugli spalti del Frangioni che raggiungeranno Latina in aereo, via Roma, in auto e in Pullman.